Ben ritrovati alla liturgia del giorno 14 maggio 2020, giovedì, San Mattia. La prima lettura ci riferisce dell'elezione di Mattia tratta dall'inizio del testo degli Atti degli Apostoli. Le lezioni si svolge in un modo molto semplice. Giuda ha rinnegato la sua missione e qualcun altro deve prendere il suo posto. Le caratteristiche sono quelle di un nuovo testimone, ma che fin dal battesimo di Giovanni sono stati con Gesù. Vengono proposti due personaggi all'interno della comunità, Giuseppe, soprannominato Giusto, e Mattia. Pregano, ma utilizzando la sorte, chiedono al Signore, che conosce il cuore di tutti, di mostrare chi lui abbia scelto. Penso che in ogni prassi, in ogni vera decisione in un ufficio ecclesiale, questo atteggiamento di fondo dovrebbe essere quello che anima proprio l'assunzione di un ministero, di un servizio all'interno della comunità. Il testo del Salmo, un Salmo molto famoso, Salmo 112, che appunto mostra come Dio esalti proprio i più poveri, solleva dalla polvere il debole e dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo. Certamente Mattia ha scelto come apostolo. Direi che si applica in maniera straordinaria questo testo all'elezione di Mattia. E infine il Vangelo. Il Vangelo lo leggiamo comunque in continuità con la similitudine della vita ai tralci, già vista ieri, e contiene il famoso comando di Gesù, amatevi come io vi ho amato. Ma ci fermiamo un attimo e poi commentiamo insieme. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi, e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando. Amatevi gli uni gli altri. Le nostre considerazioni finali ripartono dalla scelta di Mattia. Ci si affida alla sorte. Per i nostri gusti moderni probabilmente sembra un po' eccessivo gettare le sorti, ma gettare le sorti nell'Antico Testamento era affidare alla divinità una scelta che doveva essere gradita la divinità stessa. E quindi si utilizza qualcosa che non è razionalmente seguibile fino in fondo nel percorso dell'uomo, ma qualcosa che in parte si vede e in parte no. E quindi non lo si può, appunto alla sorte, gettando la sorte, non lo si può prevedere con precisione. La scelta di Mattia allora è da mettere davanti al Signore il candidato. Probabilmente Giuseppe, che poi tra l'altro viene anche detto giusto, era un candidato migliore agli occhi di chi lo presentava. Ma l'unico requisito era quello di essere testimone fin dall'inizio, per essere appunto testimone della risurrezione e del risorto. E così la scelta è molto importante, ma nel compiere un atto di fede nell'elezione che Dio stesso manifesterà, viene così aggregato agli altri undici. Vedete come l'intenzione di fondo cambia completamente anche l'assunzione di un indirizzo, di una scelta. Dio veramente guarda il cuore. Deve essere il cuore che è orientato prima di tutto a Lui. Il Salmo canta l'elezione di Dio, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza al povero. Il Vangelo, beh, il Vangelo è molto famoso, in continuità con la vita e i tralci, rileviamo tre passaggi. Il passaggio nella gioia come possesso, la condivisione della stessa missione, il passaggio in questa condivisione, e infine il passaggio nella testimonianza dell'amore fraterno. Le vediamo tutte e tre queste cose. Vediamo la prima. Il passaggio nella gioia come possesso è la logica di 15-11. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia perfetta o venga pienamente riempita. Insomma, in greco c'è un passivo. sia fatta piena la lettera. C'è dunque l'esperienza del Cristo che nonostante quello che dirà dopo, e cioè anche le persecuzioni che poi arriveranno, ma che diventa un'esperienza di una gioia che si colma. Abbiamo poi la missione del Figlio che è partecipata ai discepoli. Amatevi come io vi amati. Il come ci coordina nel medesimo comando. Non è, oh guardate c'era anche questo, è una clausa finale, è una super fregatura finale. No. Il comando dice l'unico modo con il quale possiamo essere in maniera corretta coordinati con il Figlio, così come il Figlio è comandato dal Padre, nel senso che è pienamente ordinato a Lui, ma anche viceversa, il Padre è pienamente ordinato al Figlio. In questo caso c'è una comunione all'interno della medesima condivisione dello Spirito. Tra l'altro interessante il testo di 5.15.13, scusate, è in forma impersonale. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici, di chi pone a favore degli amici la propria vita, o alla lettera di chi depone la vita per gli amici. L'idea non è quella di morire per un altro, l'idea è quella di donarsi gratuitamente. Ecco, sì, qui c'è un comando. La vita nel Signore non può essere che vissuta così, come un dono gratuito. Nel momento invece c'è l'utile, il tornaconto, l'egoismo personale e quant'altro. Questa è una logica diversa, è la logica del mondo, è la logica del cercare la propria gloria. E infine la testimonianza dell'amore fraterno. Ecco, l'amore fraterno è lo spazio entro cui il risorto potrà vivificare. L'amore fraterno dichiara la disponibilità a quel comando. Ecco allora che la vita può produrre i suoi frutti in abbondanza, come dice 15.8, perché rimane vero, dentro la similitudine, che senza il dinamismo che viene dalla vita non si può donare nulla, perché non si può fare nulla. Allora l'amore fraterno diventa una duplice cartina di tornasole. Da una parte è il terminale dell'azione dinamica del risorto dentro i tralci e dall'altra è lo spazio entro cui il risorto opera. Ecco perché il riferimento all'amore fraterno è così importante. Perché è l'inizio di una nuova storia, la storia di una comunità che si è aperta all'azione del risorto. C'è parecchio da fare, naturalmente noi portiamo il peso del peccato, delle nostre fragilità e spesse volte delle nostre contraddizioni, però la strada è questa, una strada chiara e una strada soprattutto sostenuta dalla forza del risorto e del suo spirito. Anche per oggi abbiamo concluso, io vi auguro una buona giornata nel giorno di San Mattia.